Conosci il castello di Sogne? Conosci gli Chalans? Si sa per certo che c'era una villa romana già nel primo secolo avanti Cristo, poi successivamente il potente vescovo di Aosta ne costruì una casa forte, ma la casa forte la volevano anche questi vicini, i vicini del Recio, da qui naturalmente anche il nome del paese, il Recio. E' infatti caso strano che nel 1333 ci fu un rogo, la casa forte fu messa totalmente, quasi totalmente distrutta e i sospetti naturalmente ricadbero su Aimonde o Recio. Comunque da lì a poco i successori prenderanno il possesso della casa forte, la casa forte diventerà nel 1379 di proprietà della famiglia di Ibleto di Chalans, signori di Terresse. Ibleto di Chalans è nuovo proprietario del castello, ristruttura la casa forte e ne rende una complessa dimora elegante, raffinata, in stile gotico cortese. Non c'è più necessità, infatti in un'atorre difensive è uccinta muraria, siamo nel basso Medioevo e i pericoli di assalti da parte di altre popolazioni ormai è terminato. Il figlio Francesco di Chalans ottiene nel 1426 dai Savoia il titolo di primo conte di Chalans. Francesco però non ebbe figli maschi e alla sua morte si generò una lotta di successione tra la figlia Caterina e il suo cugino Giacomo di Chalans, Emavil, ramo cadetto della famiglia Chalans. Di questo ne parleremo approfonditamente in un altro episodio. Comunque dopo anni di lotte nel 1456 Caterina dovette cedere i suoi possedimenti a Giacomo che divenne così il secondo conte di Chalans e nuovo signore di sogno. La famiglia Chalans continua ad abbellire il palazzo e lo rende sempre più una casa adatta anche ad ospitare re e imperatori, tant'è che vi soggiornò addirittura l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo durante un suo viaggio di ritorno in Germania e il re di Francia Carlo VIII vi soggiornò nel 1494. Esternamente il castello a vederlo così non è un granché, le cose belle sono semplici fuori e spesso magnifica all'interno. Questo è il caso del nostro castello, sembra una dimora fortificata, poco appariscente ma dentro si scoprono particolari decorativi e affreschi veramente unici. E allora hai capito? E se no, ripassa da me, ripassa con me.